Prima di iniziare ragazzi vi ricordo che in descrizione trovate il link per acquistare le mie magliette Mi raccomando appena le indosserete fatemi una foto e taggatemi su Instagram in modo che io possa seguirvi E adesso vi lascio il video, buona visione Allora tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video della vanilla Oggi ragazzi cercheremo una ragazza al buon pippo Detto questo mi devo mettere un pollice in su Cerchiamo di superare i 3212 like Iscrivetevi al canale se ancora vi siete iscritti Cliccate la campanellina per non perdervi nessun altro mio video E detto questo noi possiamo iniziare subito Ok ragazzi eccoci qui Allora come detto nella intro oggi andremo alla ricerca di una ragazza per pippo E io ho pensato ma l'opposto di uno zombie in versione femminile anche per i colori Può essere un pigman volendo Quindi una pigman Sì più o meno Quindi come idea secondo me ci può stare Soprattutto sfruttiamo questa cosa anche un attimo Per mettere in pratica un paio di vostri consigli Nel entri a casa di pippo Ovvero quello di mettere dentro un paio di quadri E delle torce in redstone Quindi per prima cosa Prendiamo un pochettino di torce in redstone Sì vabbè 48 Prendiamone 10 Possono bastare Sistemiamo anche la cesta che se no mi tilto tantissimo Mangiamo lì polletti E altra cosa che ci serve Beh dobbiamo craftare dei quadri Quindi serve della lana bianca Quindi andiamo qua Se 5 quadri sono più che sufficienti A mio parere Mettiamo quel legno Trasformiamo questo qui Tac tac E sbamme Ok abbiamo stanno 3 quadri ragazzi Diciamo che basteranno Ora C'è la parte diciamo più difficile Far venire il pigman Dal nether All'overworld Eh sì la parte più difficile Ora A meno che vi diciamo sul portale del nether Non c'è un pigman Ci tocca andare nel nether Picchiarne uno Farci inseguire E portarlo fino a casa di Pippo C'è tanta strada pure da fare Qui non c'è nessuno Di conseguenza Sbamme Svolichiamo E andiamo qua Sotto C'è qualcuno No Ok Saremo di nuovo sopra Così Oddio raga che giro bellissimo che ho fatto Mamma mia Bellissimo sto giro Scendiamo di qua Perché voglio fare una cosa Eh che già ci anticipiamo Diciamo Così non torniamo più a casa Ovvero prendere una nenta Che dovrei averla dentro Dentro le cesse da qualche parte Dentro la mission box No Qua dentro Forse No neanche Qui abbiamo le ultime cose Dell'ultimo video Mi sa che forse era sotto Ok Eccole qua Ne abbiamo tre che si chiamano Jeb Ma non è un problema Perché possiamo appunto rinominare Abbiamo anche altri quadri Io li prendo tutti Ci serve soltanto una ragazzi Quindi prendiamo Una targhetta di nome Jeb Che è rinominata già Che mi sono sbagliato A tempo Ne avevo fatte 20 Di ste targhette E diamo il nome Della futura compagna Di Pippo Tenebrosa Quindi la signor Tenebrosa Ne andremo a chiamare ragazzi Betty Betty Tenebrosa Eccola qua E adesso ragazzi È arrivato il momento Andare nel nether E vedere se riusciamo a fare Sta cavolata Perché è puramente Una cavolata Questo episodio Sarà un episodio Veramente senza senso Dobbiamo cercare di portare Un pigman Dal nether A casa nostra Sarà una bella impresa E entriamo subito Nel portale Ok Allora abbiamo più o meno Tutto Quello che ci serve Dobbiamo soltanto trovare Dei pigman Già che ci sono Raga Prendi un pochino di netherrack Perché potrebbe tornarci utile Quindi la prendiamo del tutto Ok Va benissimo Già mangiamo un po' il letto E cerchiamo subito il primo pigman Vediamo se ce n'è qualcuno qua vicino Ragazzi Che se ce n'è uno qua vicino Salve Lei sarà Betty Sarà forse molto easy Lo sapete ragazzi Dobbiamo soltanto farci inseguire Dal pigman Oh cacchio sono di più qua Ok 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 Raga Con calma Con tantissima calma Ok Dobbiamo subito fare una cosa Dobbiamo far entrare dentro il portale Raga Questo qui lo picchiamo Dobbiamo far entrare per forza dentro il portale Vai Entra dentro Sono qui davanti Ah no perché forse c'è la netherrack a terra Uh Prendiamo a fare così Forse perché c'è appunto la soul sand Raga Ok Non mi sembra tanto sveglio Ma Già ci ha perdonato Ma ci hanno già perdonato C'è io vi ho ammazzato un compagno Davanti ai vostri occhi Già mi avete perdonato Lo sposto piano piano raga Allora Devo vedere se ci riusciamo ragazzi Ok Però E sti qui E dai Fammi piazzare sto blocco Proviamo a fare in questo modo Ti posso cercare di far entrare dentro il portale Come cacchio facciamo raga Allora proviamo a levare questi Così posso spingere ancora Ok Ok E adesso è arrivato il momento di spingerli Vai Entra Nel portale Forza Mmm Cosa possiamo fare raga Vediamo che abbiamo qua dentro Che possiamo andare ad utilizzare Del ferro C'è della stone No Ho un'idea Ho un'idea malatissima ragazzi Ho un'idea malatissima Ok La mettiamo subito in pratica Però No cacchio Forse non posso A meno che Se abbiamo fortuna Dentro l'emerald box Aspetta Con la fishing rod No si arrabbia pure Raga volevo fare tipo un pistone Però mi sa che non ci riusciamo Quindi proviamo a fare in questo modo Direttamente Opla Chiudiamo anche di qua E riproviamo la tattica di prima Vorrei farli arrabbiare Dobbiamo soltanto un attimo Fare in questo modo Chiudiamo qua Così E qui poi non dobbiamo uscire Ok Allora raga Pronti Andata Andata Ok Seguitemi Vai Bravi No 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 Venite qua Ora aspettiamo Che si calmino Ok Aspettiamo Penso che si sono calmati Credo che si sono calmati ragazzi Mi sa che non si sono calmati No Non si sono calmati per nulla No raga Non si sono calmati Oh oh Questo non è tanto buono raga Voi siete stupidi Voi dovete essere stupidi Oh cacchio Ragazzi Lo sai sta sfuggendo di mano tantissimo Ok No ma hanno chiuso Ma hanno chiuso Ok credo di esserci riuscito raga Oh cazzo Ma sono intelligenti sti cosi eh Oh si Fatto 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 E muori Goodbye Ok raga Andiamo subito Nell'overworld Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta raga Eccolo Eccolo qui Oh raga Dovi un attimo Bravo E notte purtroppo Allora prima di tutto raga Name tag Betty E adesso Pugnetto Via 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 Raga non ci vedo Ce la stiamo facendo Ce l'abbiamo fatta Vieni qua Betty vieni Vieni Brava brava Vieni 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 Certo è un pochettino lenta eh Però vabbè Dai ci sta come compagnie di Di Pippo Vero raga Che ne pensate Dai ci può stare Guardate carina Betty Oh ma Lei non è Pippo No Lei non è Pippo Quindi Via Eh raga Ora Sarà una palla portarlo Fino Fino da Fino a Pippo Almeno ci vogliono due minuti buoni No no dove sta andando Vieni Targhettami No raga Si è baccato come Pippo Ma vi ricordate Abbiamo trovato L'anima gemella Di Pippo Aia Figlio di put Ma che non ce la fa salire Ma che sta bruciato No raga Raga non riesce a salire Dai Ma perché Ok raga ce l'ho fatta Dai vieni qua Betty vieni Oddio ma non prende il fuoco il pigman Vero no Vero no Vero no Vero no Vero no Dai forza 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 Ce la stiamo facendo Ragazzi Ce la stiamo facendo Dai Come on Come on Betty Forza So per portarti A tuo nuovo ragazzo Cioè raga Io ho fatto Un matrimonio combinato Tra Pippo e Betty Dai Betty Manca veramente poco Se no Un cento blocchi Dai Ce la possiamo fare Raga manca veramente poco Siamo quasi arrivati Devo farla salire qua sopra E farla entrare dentro casa Di Pippo Ma spero che non cade per Di qua ci sono caduto io Dai C'è bloccata Vieni Vieni Venga signorina Venga Sa oggi Lei è veramente bellissima Certo E' un po' maialina Però va bene così Ma perché do dire Ste cose nei video Forza Salga Ce la stiamo facendo Raga Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Adesso Pippo Sarà finalmente felice Perché avrà Una sua Compagnetta Venghi venghi Madonna C'ha un Lontore di pancia Pippo E là dietro c'è Pippo Raga Betty Entra Qua c'è Pippo Ecco voi Fate conoscenza Questi qui vogliono far fuori Raga Finalmente stanno insieme Pippo e Betty Bene Adesso Guarda Guarda Sono felicissimi Guarda come sono felici Raga C'è Betty E c'è Pippo Betty E Pippo Pippo e Betty Naturalmente Pippo Tenebrosa E Betty Tenebrosa Bene Adesso Voglio mettere dentro Un paio di quadri Sperando di riuscirci Quindi spacchiamo un attimo qua Allora intanto Questa la mettiamo qui Aia Questa la mettiamo Aia Betty dai Su Aia Sì E raga Un attimo Betty uscì da fuori Mettiamo intanto qua Un paio di quadretti Prima che mi fa fuori Pippo Ok va bene questo Qua ne mettiamo questo Uno all'ingresso qui E va bene così E beh Ora dobbiamo farlo entrare Mamma mia Uh Mamma mia Toh Fatto Fatto raga L'abbiamo chiusi dentro di nuovo Oh ora Una bella casetta Bella Tenebrosa Per naturalmente La famiglia Tenebrosa E ragazzi In background abbiamo Appunto Betty E Pippo Che sono veramente Contentissimi Di essersi conosciuti Comunque ragazzi Con Pippo e Betty Che sono veramente Felicissimi Di essersi conosciuti E vi dico che Questo episodio della vanilla Può anche Finire qui Quindi ragazzi Questo è il video Finisce qui Spero vi sia piaciuto Un commento qua sotto Vi ricordo di passare in descrizione Perché lì sono tutti i miei social Come Instagram e Telegram E commento di seguitemi su entrambi E se ancora Non vi siete iscritti al canale Il video è di iscrivervi Volendo iscrivervi al canale Basta che cliccate E notare che sta qui c'è dello schermo E se già l'avete fatto Volevi cliccare la sinistra a destra Per vedere un altro mio video No ragazzi Io vi saluto Ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao a tutti